Ma che feedback, secondo te, adesso al di là che ancora è fresco il video, però che tipo di feedback hai ricevuto? Anche quello che dicevamo prima, riuscire a raccontare una storia all'interno di un settore un po' nel B2B, abbastanza industriale come settore, dove uno magari si potrebbe aspettare meno uno storytelling o un'animazione, quindi crea anche un po' un effetto, da un certo punto di vista, di sorpresa. Sicuramente, abbiamo fatto anche delle scelte abbastanza ardite, ad esempio sulla voce, piuttosto che sullo stile comunicativo, su alcuni piccoli dettagli di cui io sono molto fiero e orgoglioso e spero e credo che avranno grande successo. Il confronto interno con la forza vendita e con tutte le persone che poi dovranno utilizzare questo strumento in modo regolare ha trovato solo commenti intuidastici, quindi ritengo che anche chi non ha magari particolare abitudine a certi argomenti abbia la possibilità finalmente di capire cosa facciamo. Ad esempio, mia mamma è entusiasta, che insomma sa che lavoro faccio, però il dettaglio a spiegarglielo, insomma, vaglielo a spiegare, invece il video le ha permesso di arrivare direttamente al punto e accolto quello che poi ci caratterizza, quindi sono molto fiducioso. Poi è stato molto divertente perché comunque sono strumenti al di là dell'efficacia e quindi dell'aspetto professionale di altissimo profilo che ho trovato, anche proprio divertenti, mi piace a tutti, insomma, faccio carico in queste cosine qua, quindi l'idea di misurarsi con un video istituzionale in cui faccio vedere già che cravatta, che noi siamo bravi, che le viti li spostiamo, ma dove c'è, adesso non voglio spoilerare, ma dove c'è Fabio che insomma racconta un po' come funziona, insomma, quello è stata una cosa che ci ha dato grande soddisfazione, anche nella realizzazione, non solo poi speriamo, nei frutti che ne verranno. Super. Mark, è stato gentilissimo e ti ringrazio per queste bellissime parole e veramente non vediamo l'ora che ci dai un po' di feedback anche poi sui risultati sul campo, ecco, che poi sono una delle cose più importanti. Sicuramente. All'entusiasmo che abbiamo adesso per la novità e per il video fresco, sicuramente accompagneremo dei buonissimi risultati che ci porteranno a fare altre cose. Noi abbiamo già in programma una seconda puntata di approfondimento. Sono certo che si racconteremo sul solco tracciato. Fantastico. Grazie mille ancora Marco e allora a presto. Speriamo. Grazie.